Musica Buonasera, ti ho portato un pensierino dalla Toscana al mio canale Grazie, grazie, è il mio cellulare Una foto che me la fai insieme? Grazie, grazie Con mollita o senza Allora, siamo da Donato, con mollita o senza Ciao Donato, buongiorno Buongiorno, io sono Bob Cass Donato, sentando innanzitutto complimenti per quello che hai realizzato Qui siamo in una saletta interna E' una bellissima idea Napoli 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 Lascia sempre qualcosa Ma te che sei di Napoli Che cosa ti lascia Napoli oggi? Napoli è immensa Napoli è immensa Con questa esperienza è ancora più immensa Però grazie a tanti di voi che venite anche da Nord Italia e da Sud Italia Però Napoli è un popolo a parte, è immenso perché dà tanto valore e tante energie E tanto valore Come in questa locale Grazie Quindi con mollita o senza da Donato Via? Via Pignasecca numero 29 con mollica o senza Quindi il canale si chiama Donato Bob Cass TV Grazie a tutti Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti